Ed ecco la risposta sconvolgente e semplice di Sant'Alfonso Maria degli Cuori nella sua popolare melodia «Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo». Ecco il misterioso, incredibile, irrazionale e folle progetto di Dio per la nostra salvezza. E dopo averlo presentato e proposto a Maria, lo ripropone oggi in tutta la sua intensità a Giuseppe. Giuseppe, figlio di Davide, dice il Signore, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Partorirà un figlio e lo chiamerai Gesù, il Salvatore del suo popolo. E quello che colpisce di più in questo progetto è una semplice parola. Non temere, non temere Maria, non temere Giuseppe. Il pazzo progetto di Dio, affidato ad una donna e ad un uomo, consegnato ad una famiglia ancora non nata, commissionato ad un dubbio e ad una problematica accoglienza. Non temere. E Maria e Giuseppe non si perdono nelle proprie paure e nei propri calcoli e si aprano alla parola del Signore. La nostra vita è troppo complicata, spesso confusa e più ancora tortuosa da far pensare che non sarà certo un bambino a risolverla e definirla. Le nostre relazioni umane stanno perdendo di densità e dinamismo, cancellando l'accoglienza, l'amore, la tenerezza e la fedeltà. Ma anche a noi è rivolta quella incoraggiante parola, non temere. Fa, Signore, che non ci perdiamo nelle nostre paure e nei nostri calcoli, ma apri il nostro cuore alla Tua parola.